Una cosa difficile a Zanardelli? No, non la ricordo. Ho studiato al CFP Zanardelli. Il mio percorso studi è partito dall'operatore turistico della montagna per poi arrivare al diploma professionale che ho conseguito sempre qui a Ponte di Legno e successivamente ho conseguito una laurea in scienza delle comunicazioni. Ho scelto il CFP Zanardelli perché in quel momento era la strada giusta da percorrere per tutti quei sogni che cercavo di inseguire. Adesso lavoro principalmente a Ponte di Legno. La mia professione è nel campo turistico e si divide in base alle stagioni. L'inverno sono maestra di sci allenatrice di club nella scuola sci pontetonale mentre l'estate faccio la guida accompagnatore di mountain bike nella scuola italiana mountain bike. Il CFP è stato molto utile per trovare lavoro perché mi ha offerto le basi per coltivare per cercare nuove ispirazioni, nuove passioni. Tutto il percorso è stata un'esperienza dove sono cresciuta e maturata. Consiglierei il CFP Zanardelli premettendo che non è facile trovare la propria strada a 14 anni quando si deve scegliere il percorso di studi nuovo però sono sicura che questa tipologia di scuola dà delle ottime basi e delle ottime possibilità per riuscire poi nel tuo futuro. Grazie a tutti.